Allora questa è la nuova ordinanza firmata oggi da Luca Zaia che riguarda soprattutto l'estero, quindi i lavoratori o non solo quanti rientrano dall'estero in Veneto in questo caso. Nel giorno in cui Zaia conferma la propria leadership nella classifica del sole 24 ore, lo sapete addirittura guadagna 20 punti percentuali, Fedriga è secondo, tra i sindaci invece del nord-est il primo è Brugnaro mi pare in quinta posizione. Tra l'altro stasera ne parleremo a Ring cercando anche di spiegare questa ordinanza ulteriormente perché può essere complicata soprattutto nel momento in cui ne rispondono di un lavoratore che rientra in Veneto, gli imprenditori e questa sera il presidente Zaia sarà a Ring. Allora intanto è avvolta come dicevamo al contrasto dei contagi per quanti rientrano dall'estero e poi c'è la denuncia d'ufficio, attenzione, per i positivi che violano l'isolamento fiduciario. Allora, obbligo numero uno, contrasto a rischio con soggetto, scusate, tamponi per questo motivo, anzi l'isolamento per questo motivo, obbligo di isolamento 14 giorni per questo, contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone. Due, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi dall'allegato uno e questo è l'allegato, sono 36 paesi principalmente dell'Unione Europea, poi li alleghiamo a questo video in modo che siano chiari per tutti. Quindi, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dall'allegato, obbligo di isolamento fiduciario dall'ingresso nella nostra regione per 14 giorni. Quindi, se rientro non dalla Francia, ma da un paese diverso da questi 36, ho l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni. Ecco, se evado, diciamo, da questo obbligo di isolamento c'è la denuncia d'ufficio. Terzo punto, con presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore di 37 gradi e mezzo, isolamento fiduciario anche in quel caso, 14 giorni, allerto le autorità e via dicendo. Poi, tema del lavoratore che rientra. Ecco, queste persone che entrano o tornano in Veneto dopo un viaggio nei paesi diversi ancora una volta da questi 36, devono sottoporsi a tampone appena arrivati, quindi qui subito, gratuito, e poi, di nuovo dopo sette giorni, se il primo è risultato negativo. Poi, se il titolare non segnala e non richiede il tampone per il lavoratore in arrivo dall'estero da uno dei paesi in questione, viene multato di 1000 euro per ogni lavoratore. Insomma, questo è un tema che vale anche per i veneti che si spostano per il turismo. La disposizione vale anche per i turisti veneti che tornano da uno dei paesi esclusi dall'allegato 1. Questo è un tema molto importante. E poi, insomma, per il rifiuto del ricovero, si torna sul fronte del TSO dei giorni scorsi, per il quale anche il ministro Speranza dà un segnale di apertura addirittura. Chi rifiuta il ricovero, perché positivo o con sintomi, deve essere segnalato all'autorità giudiziaria. Parte la denuncia d'ufficio nel momento in cui il soggetto è consapevole della gravità della propria situazione e della positività da Covid. Tra l'altro, vabbè, poi c'è tutto il resto sulle sanzioni vi dicendo. Le parliamo questa sera a Ring alle 21.15. Sul sito ferdinandoavarino.it trovate anche l'allegato dei 36 paesi che non riguardano questi dispositivi di quarantena obbligatorio dei 14 giorni. E poi, ovviamente, il presidente Zaia questa sera a Ring. Ciao! Grazie a tutti!